Cristina, marketing manager di Röner, una distilleria storica. Ci vuoi raccontare un po' la vostra azienda? Röner è un'azienda familiare, lo era nel 1946 quando è stata fondata, lo è ancora oggi nel settantesimo anno di attività. Siamo distillatori, distillatori per eccellenza. Qui ad Aperitivi & Co. che cosa avete proposto in degustazione? Qui ad Aperitivi & Co. abbiamo portato sostanzialmente tre categorie di prodotti, sono le grappe, giovani ed invecchiate, in particolare una monovitigno di Gewürztraminer, una selezione di liquori, liquori alle erbe, liquori alpino-cirmolo, liquori di bacche di ginepro e i distillati di frutta, in particolare i distillati di frutta rara come la mora o la prugnola selvatica. Questi sono prodotti che voi proponete sia lisci da degustare oppure anche in mixology? In entrambe le situazioni. Diciamo che il consumo di un distillato di questo tipo liscio è un consumo molto di nicchia, molto particolare perché parliamo comunque di gradazioni oltre i 40 gradi. In mixology essendo distillati di frutta sono estremamente profumati e anche con un solo CL si riesce ad ottenere veramente molto.